In tutto il mondo oggi si celebra la giornata internazionale dell'infermiere, una vocazione per molti che da oltre un anno e mezzo stanno combattendo in prima linea la battaglia del Covid, figure fondamentali all'interno del sistema sanitario che chiedono oggi più che mai di non essere dimenticate. Ne abbiamo parlato con Laura Biagiotti, presidente provinciale dell'Ordine degli Infermieri. Un infermiere che quanto mai in questo periodo di pandemia ha trovato un suo spazio veramente vitale. Ha dimostrato di avere forza e coraggio di affrontare tutte le situazioni più difficili, in sinergia sicuramente con tutte le altre professioni sanitarie, tecniche e amministrative. Un infermiere che non si è mai tirato indietro, pur avendo tutte le difficoltà che ci potevano essere in questo periodo di pandemia. La cosa che ci preme di più è pensare di non essere dimenticati, perché eroi non lo siamo stati solo nel momento della pandemia, ma lo siamo sempre, fin dal primo giorno che decidiamo di iscriverci al corso di laurea, fin dal primo giorno che decidiamo di prendere in braccio questa professione. E questa professione che sicuramente ci ha dato l'opportunità di dimostrare in questo periodo quanto valiamo. E la cosa più importante, a nome di tutti, che voglio dire è che la politica, tutto il sistema sanitario, non si dimentichi che è una professione in questo momento sicuramente da valorizzare economicamente e soprattutto da rendere più libera, cioè svincoliamola da quel rapporto di subordine per dare aiuto a tutte quelle strutture private sul territorio che necessitano di infermieri.